Garantire la sosta gratuita ai diversamente abili in tutti i comuni della regione Campania. Lunedì prossimo approda in Consiglio regionale la mozione presentata dal presidente del gruppo di Fratelli d'Italia Alberico Gambino. Una mozione mi auguro possa vedere coinvolgimento e l'approvazione da parte di tutto il Consiglio perché in effetti la legge nazionale lascia discrezionalità ai comuni nel poter scegliere questo tipo di situazioni e ho presentato una mozione in modo tale che tutti quanti i comuni della regione Campania possono adeguarsi a questa normativa cioè quella di far sì che i diversamente abili possano parcheggiare liberamente senza pagare ticket in ogni città, in ogni comune della nostra regione visto che è sancito dalla Costituzione il diritto della mobilità di potersi muovere ogni nostro concittadino e quindi mi auguro che possa vedere questo tipo di situazione, la condivisione di tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale.